La Royalty, dal 7 la passiamo al 10, quindi tu hai un risparmio, dovresti pagare 414 sul 18 e 27 che non sarebbe neanche a gara, la gara sarà un 15, un 14, un 16, insomma la gara è a rialza, ne paghi 110 di aumento dal 7 al 10, i tre punti, 100 sono quelli che dobbiamo dare e tu hai un risparmio di 204.482 e sei dentro al 10. Quindi praticamente quello che io dovrei dare in più sono questi 100.000 euro. di cui io ho ottenuto anche 51.000 euro prima del Consiglio, l'altro 10 al meso, ho detto ne rispondo io, mi farà l'assegno, io mi tengo il servato e poi a marzo, a aprile, a giugno, a luglio, in maniera che tu ti organizzi con modità. Questo è il quadro. io sono stati per me giorni veramente qua. Io sono stati per me giorni veramente qua. Va bene, l'ho lasciato in bianco. Che? 79. Tu ci dici che io oggi quanto ne abbiamo? Due. Diciamo che il 2 di aprile. Ogni è finemente. Ogni è finemente. non si deve parlare di due. E so che ti devo ringraziare.